Gesù disse, ho sete, vi era lì un vaso pieno di aceto e i soldati, inzuppata una spugna nell'aceto, la posero in cima ad una canna di issopo e gliela accostarono alla bocca. Ma quando Gesù ebbe preso l'aceto, esclamò, tutto è compiuto, poi chinato il capo, rese lo spirito. Beati voi che siete poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Ma guai a voi, o ricchi, perché avete già ricevuto la vostra ricompensa. Guai a voi che ora siete sazi, perché patirete la fame. Amate i vostri nemici. Fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite quelli che vi maledicono. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato.